Musica Vediamo ora di studiare e tracciare il grafico della seguente funzione. Si è assegnata la funzione f di x definita dalla regge radice cubica di x al cubo meno x quadro. Dove è definita questa funzione? Abbiamo una radice cubica, quindi la possiamo calcolare qualunque sia il segno da radicando. Vediamo se è una funzione pari o una funzione dispari. Quindi è definita in tutto meno infinito o più infinito. Andiamo a calcolare f di meno x. A che cosa è uguale? È uguale alla radice cubica, abbiamo meno x al cubo meno meno x al quadrato. Questo è uguale alla radice cubica, meno x al cubo è meno x al cubo. E meno x al quadrato è x quadro, meno x quadro. Quindi come vedete questo è differente sia da f di x, quindi non è pari, ed è differente anche da f di meno x, quindi non è dispari. È una funzione né pari né dispari. Possiamo valutare il segno. Quando è che f di x è maggiore di zero? Quando la radice cubica di x al cubo meno x quadro è maggiore di zero. È una radice cubica positiva quando il radicando è maggiore di zero. Questo è lo stesso che scrivere x quadro per x meno uno. E questo è maggiore di zero tenendo conto che x quadro è maggiore o uguale a zero. se x meno uno è maggiore di zero. Ed x diverso da zero, perché dobbiamo tener conto che non si deve annullare x quadro. Che cosa abbiamo? Che la funzione è positiva per x maggiore di uno. È negativa chiaramente per le x rimanenti. Quindi f di x è negativa per x minore di uno. E per quali valori la f di x vale zero? Quando la radice cubica è zero, cioè quando il radicando è zero. Ovvero che cosa abbiamo? x quadro per x meno uno deve valere zero. E questo è vero quando x quadro vale zero, cioè quando x vale zero. Oppure quando x meno uno è uguale a zero, ovvero x uguale a uno. Allora cominciamo a acquisire queste informazioni. La funzione è positiva per x maggiore di uno, è negativa per x minore di uno, è nulla per x uguale a zero, x uguale a uno. Quindi fanno parte del grafico i punti zero, zero e i punti uno, zero. Poi vediamo di studiare il comportamento al limite. Cominciamo con il limite per x tendente a più infinito di f di x. Questo è uguale al limite per x tendente a più infinito della radice cubica di x al cubo meno x quadro. Allora, questo lo possiamo riguardare come il limite per x tendente a più infinito di x al cubo meno x quadro, tutto elevato a un terzo. A cosa tende l'argomento della radice? x al cubo meno x quadro lo possiamo scrivere come x quadro che moltiplica x meno uno. per x tendente a più infinito, x quadro tende a più infinito, x meno uno tende a più infinito, quindi x al cubo meno x quadro tende a più infinito. Il tutto viene elevato a un terzo, quindi questo limite è più infinito. Che cosa possiamo dire? Che non esiste l'asintoto orizzontale destro. Vediamo di valutare il limite per x tendente a meno infinito. Vediamo se lo possiamo fare qua stesso. Per x tendente a meno infinito, cosa succede? x quadro tende a più infinito, x meno uno tende a meno infinito, quindi tutto quello che c'è sotto il radicando tende a meno infinito. La radice tende a che cosa? A meno infinito. Quindi non esiste né l'asintoto orizzontale destro né l'asintoto orizzontale sinistro. Vediamo un poco di scoprire se c'è l'asintoto obliquo. Facciamo il limite per x tendente a più infinito di f di x diviso x. Questo è uguale al limite per x tendente a più infinito di radice cubica di x al cubo meno x quadro fratto x. x come lo possiamo scrivere? Come radice cubica di x al cubo. Ora mi pare che non fa nessuna differenza anche se facciamo il limite per x tendente a meno infinito in tutto questo ragionamento. E quindi se noi scriviamo la radice cubica di x al cubo meno x quadro fratto la radice cubica di x al cubo come l'unica radice cubica del rapporto x al cubo meno x quadro fratto x al cubo ci accorgiamo che essendo eradicando il rapporto di polinomi dello stesso ordine quindi convergente al rapporto dei coefficienti di grado massimo 1 diviso 1 la radice tende a radice cubica di 1 ovvero 1. Abbiamo determinato il coefficiente angolare del possibile asintuto oblicuo.